ecco c'è la parte 2 di ancora cipullo aspetta c'è un biscotto nel pacco precedente abbiamo nel vlog precedente abbiamo salutato la nostra Serraiocco chi ha visto la parte 1 ha visto ma c'è la cipullo c'è questo è per me riepiloghiamo la cipullo un bagno schiuma pimmia qua c'è tutto il matemecum c'è anche l'acqua ossigenata la coloppa, biscotti, un caffè e siamo a questo questa valigia mi ha detto che è per me bellissima grazie è per me la borsa termica della Coneri c'è della Ducati e guarda che bella questa grazie cuore grazie mi ne vado a mare mi porto belli bibiti i bibiti vangono poi i bibiti ci fichiamo a calizzare ma l'hai visto questo trolley Ducati grazie grazie cuore è bellissimo grazie grazie cuore io ora da oggi ho la valigia quindi se noi litigheremo io ho la mia valigia va bene avanti basta va bene ecco ragazzi dentro questa valigia c'è un mondo io ve lo dico ora 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 aspetta un attimo ok eccomi qua eccomi qua mi vedi se c'è l'acqua assigerata per me tu mangi le fatturevi ti facevo un correttivo scelto un po' mi cerito scelto non nuotare grazie cipullo ma come mi le metti la mano ah così ciao 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 e io devo andare a mare quest'estate con questo grazie cipullo almeno farò finta di nuotare anche io l'acqua assigenata vabbè c'è l'acqua assigenata per me scelto l'acqua assigenata mi manda è fantastica io l'amo questa donna uovo della kinder grazie è un po' rotto però vabbè tanto me lo devo mangiare non è che lo devo scelto grazie questo è per me grazie quello della perugina ah il fondente Luisa ti ha mandato chi vuole Luisa questi sono le saldettine in the wings sempre un po' pa' clinica si cuore ma non è che state ricoverate un cemmissimo questo è il tiraboucheau bellissimo ah bello nero bello i coltelli ma questi non li posso fare vedere troppo vabbè ci sono una serie di di coltelli facciamo così una serie di coltelli non li posso fare vedere troppo perché bloccano il video ok è una bella tovaglia da tavola ma con il cuore bella antimacchia grande no cipullo di sicuro sicurissimo cipullo sei stata più che fantastica devo dire allora riepilogando è quasi tutto per me amore un troll i chissi tutto per me ma tu chi è stato anche a mie con quelle mie la colombatia questo di chi è il tuo uomo no chissà lo do io usaccio natale il bestio va bene allora faccio una cosa scusate mi faccio una cosa vabbè ragazzi mi vedrete quest'estate su tutte le spiagge col mio salvagente scelto non si metta così usaccio però però non lo posso indossare tutto perché se no mi cala mi dovrei inquadrare tutto quindi in tutte le spiagge italiane quest'estate avrete me con lui scelto grazie alla cipullo tutti al mare tutti al mare a succare le cappe chiare grazie alla cipullo scelto io mi divaio un po' bello no perché io non faccio notare a cipullo una cosa il prossimo pacco mi raccomando noi abbiamo bisogno di cose estive per portarcele al mare tu già penso che sei pronta con i tuoi punti conad quindi mi raccomando scelto già questi ce l'abbiamo chi ne ci ho appassato c'è una lista belitelli spugni accappatoi infradito una bella che sarà borracce creme solari c'è io che sogno io che amico amato picchiali scelto va bene cipullo ti amiamo saluta cipullo ciao cipullo ciao cipullo ciao cipullo c'è io con questa cosa spiagge va bene a dopo a dopo ciao 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 ciao